Basta che sto lontano da te e dalla tua casa sto benissimo. Claudio smettila. Te lascialo parlare. Ma tu perché ce l'hai con me? Perché sei stata tutta la vita a dirci di non dire niente a mamma e papà, perché sennò poverini non avrebbero retto il colpo. Cosa non doveva ti dire? Non sapevo che un uomo e una donna possono perderci uno nell'altro fino in fondo senza vergognarsi. Grazie a tutti.